Eccoci qua ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube e oggi abbiamo l'onore di avere qui con noi la conduttrice della E-Serie A Team Esports, praticamente, i Football Pest 2021. Quindi, diamo il benvenuto a Fiona Ciacalli. Era tutto difficile, dal nome al gioco a tutto il resto. Quindi, E-Serie A Team e Football Pest 2021. Bravissimo, ho dovuto imparare la memoria perché avrò detto almeno 8 centi. Io ancora non ci sono riuscito, però va bene lo stesso. Benvenuta Fiona, come stai? Buongiorno, tutto bene, grazie, grazie. Allora, guarda, ovviamente sei qui per un motivo ben preciso, devo riempirti di domande. Vai, sono prontissima. Spero che tu risponderai a tutto quello che ti chiedo, anche perché sei costretto a farlo, non è che hai alternative. Promesso, tranquillo, non mi tiro mai indietro io. Ok, attenta alle domande scomode. Detto questo, io partirei dalla domanda di base e poi entriamo nel dettaglio, perché qui, ragazzi, siamo tutti amanti di videogames su questo canale YouTube. Sappiate che, ovviamente, Fiona è una ragazza appassionatissima, non solo di videogames, ma anche di tecnologie e, anche di un'altra cosa, più tardi ci entriamo nel dettaglio. No, 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 non mi riferisco a niente di strano, assolutamente, vabbè, gli Epic Pale fanno parte, ovviamente, della diretta. Dai, presentati, dimmi che fai di bello nella vita. Allora, magari qualcuno di voi, qualcuno, ecco, appunto, alcuni di voi mi conosceranno perché mi seguono su YouTube, sul canale Tech Princess, mi occupo di tecnologia, videogiochi e anche di macchine, perché ho un canale anche che si chiama Driving. A quelli non mi riferivo. Io faccio test drive. Eh, sì, appunto, appunto, di motori. Nella vita faccio veramente un sacco di cose, tra cui presento anche molti eventi e in questo preciso istante ho l'onore davvero di presentare la Isri Atimi Football Pest 2021. E per me è stata una cosa veramente grandiosa perché, ma di questo penso ne parleremo dopo. Comunque, faccio contenuti online, faccio cose, vedo gente e l'accompagno per mano in alcune avventure che faccio di solito nella vita. Veramente una cosa bellissima, poi, tra l'altro, trasformare una passione in un vero e proprio lavoro, no? Eh, sì, nel senso che ci ho messo un po' di tempo per riuscire a realizzare questa cosa, però ho dovuto trovare la chiave. Eh, bisogna trovare la chiave giusta per trovare quella strada giusta che ci sono nel momento giusto, al posto giusto per poter raccontare qualcosa alle persone che sia di interesse, di valore. Quello di cui si parla di solito, no? Un internet molto positivo che aiuti anche a crescere chi ci sta guardando perché abbiamo, secondo me, una grossa responsabilità sulle spalle. Assolutamente d'accordo con te e adesso inizio a entrare nel dettaglio. Queste sono, in realtà, le domande che più mi intrigano e mi interessano. Come ti sei avvicinata al mondo dei videogames? Allora, il mio videogioco preferito è questo, che è The Legend of Zelda, che porto sulla pelle. Ma è il mio gioco preferito perché io ho iniziato con il NES a videogiocare, perché mio papà me ne portò uno dall'Italia, perché io sono nata in Albania e sono rimasta fino all'età di quattro anni e poi sono arrivata in Italia. Il mio papà ne aveva portato uno in Albania, aveva speso una barcata di soldi all'epoca. Mi ricordo che costavano tantissimo le cassette, non solo, ma anche il NES di per sé. E mi ricordo che giocavo ai videogiochi con mamma e papà sul divano di casa. Quindi per me era un momento veramente fantastico di aggregazione. Cioè, io ho dei ricordi felici proprio legati ai videogiochi. Infatti i miei non mi hanno mai impedito di videogiocare. Ah, perché sono sempre andata bene a scuola, quindi il tempo che spendevo con i videogiochi per loro non c'era nessun problema. Anzi, molto spesso la mia mamma, che giocava più di me, mi diceva sono rimasta bloccata con Tomb Raider, vieni ad aiutarmi. Dicevo, mamma, ma io stai studiando? E mi dicevo, vabbè, ma studi dopo. Ma come studi dopo? Ma che mamma sei? Quindi hai i soldi. Gli uoli invertiti. Gli invertiti completamente. Mia mamma oggi ha 63 anni su per giù e tuttora mi dice a uno Nintendo Switch e mi diceva, hai qualche gioco nuovo per me? Dico, no, io non te li do ai giochi nuovi, perché tu in due giorni li finisci, hai capito? Devi tenerteli e farteli durare di più. Mi fa ridere questa cosa. Però, secondo me, anche lì il videogioco, quando non è compreso, spaventa, dà fastidio. E mia mamma, con la quale ho giocato, e lei conosce i videogiochi, perché li abbiamo scoperti insieme, è una grande fan. Assolutamente. Avevo preparato delle domande, ma hai già risposto ad alcune. No, però è bello, perché in realtà così è molto più naturale come cosa. Quindi passo alla domanda successiva. Mi hai detto che il tuo gioco preferito, ovviamente, è Zelda, è ok. E il tuo genere di videogame preferito? Ma, guarda, mi sono innamorata di Final Fantasy con l'8, e da lì i giochi di ruolo mi sono sempre piaciuti. Mi sono sempre piaciuti. Eccomi, Final Fantasy 8 forever. Oh, raga, se siete giovani, giovanissimi, tappatevi le orecchie. Io fingevo di stare male a casa. Cioè, fingevo, io soffro di mal di testa. Però, sì, li aumentavo un pochino di intensità per non andare a scuola, perché dovevo giocare a Final Fantasy 10. Cioè, nel senso, aspettavo che mia mamma e mia papà andassero al lavoro. Io giocavo, ma perché mi stavo appassionando tantissimo. Quindi i giochi di ruolo, quelli a turni, con le battaglie pianificate, sono i miei preferiti. Quelli action, sì, me li faccio andare bene. Però Final Fantasy è una saga che mi ha sempre appassionata. Quindi 8, 10, anche il 12 se non è piaciuto. Però li ho giocati un po' tutti, insomma. Tranne quelli online, il resto. Guarda, la cosa bella è che anche io mi sono avvicinato a Final Fantasy per la prima volta con l'8 e poi li ho giocati tutti. Ma credo che l'8, cioè, abbia dato... A parte che la grafica, non so se la guardi adesso, dici... Dici, mamma, che schifo se la guardi adesso. Ma all'epoca, per PlayStation 1, era un qualcosa di pazzesco. Sì, c'erano le cutscene che dicevi, oh, sembra vero! Che ridere! Però sì, 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 era una cosa assurda. Però quello, secondo me, è stato il mio primo gioco lungo a cui ho giocato tanto. Per esempio, mia mamma quello non riusciva ad apprezzarlo perché c'era molto da leggere, molto da immedesimarsi nella storia. Lei è più da giochi immediati, no? Quindi Super Mario, altri tipi di giochi per NES, che tutto sommato non avevano una storia molto sviluppata, proprio perché per l'epoca la tecnologia non lo permetteva. Quindi sì, Final Fantasy. Guarda, entro un attimo nel merito, esce fuori di conseguenza un'altra domandina. Ma ci sei rimasta male, senza spoilerare nulla, del finale di Final Fantasy X? Sì, c'era rimasta de merda tantissimo. Ho pianto anche molto, ho pianto anche molto. Però sì, cioè, secondo me è uno con le storie più intense di tutti. Cioè, nel senso, non puoi non piangere. Sei il cuore di pietra, hai un bidone della spaziatura al posto del finale. È un cuore, assolutamente. Cittazione di grande livello, tra l'altro. Esatto. All'otto, quanti anni hai passato al gioco di carte e al dieci a giocare a Blitzball? Allora, a Blitzball zero, gioco di carte, c'è giocato praticamente tutto quanto il gioco. E me lo ricordo, quello delle carte era maledetto, perché c'erano dei punti in cui o prendevi la carta lì o non la prendevi mai più nella vita. E infatti con le guide e tutto. Oggi non le uso più tanto le guide, ma all'epoca erano fondamentali. Assolutamente. E la tua console preferita, invece? Console preferita? Penso la 2, PlayStation 2. Cioè quella di cui ho avuto più giochi e che ho sfruttato più di tutte, tantissimo. Perché ero già un po' più grande, magari avevo qualche soldino in più per i cavoli miei, quindi me li compravo da sola. È quella con cui ho sperimentato di più, anche perché ho lavorato per tanto tempo per GameStop. Quindi avevo proprio a disposizione, li vedevo tutti i giochi, no? Ma poi a un certo punto facevo, no, questo lo prendo, questo lo prendo, questo lo prendo. E lì si è ancora ampliata di più la mia conoscenza, perché a un certo punto ero arrivata a comprare giochi che non mi piacevano, perché io volevo provarli per sapere perché non erano belli. E poi, nel senso, poi al massimo li buttavi dentro, li portavi dentro, insomma, c'erano tanti modi per poter far girare questi giochi. Però per me era fondamentale conoscerli il più possibile, anche quelli brutti. E guarda, mi trovi completamente d'accordo. Io pure mi sono sempre chiesto perché alcuni generi non hanno mai attirato la mia attenzione, però non li ho mai snobbati, li ho sempre provati e poi magari ho detto no, non è un genere che fa per me. No, non fa per me, no, no, infatti. Tipo io, non so, gli RTS per me sono incomprensibili o tutto ciò che è isometrico per me, no. Poi gente mi dice, non capisci niente. Ci sta, ci sta. Gusti personali. È assolutamente lecito, esatto. Però non attira la mia attenzione. Assolutamente d'accordo con te. Detto questo, entriamo nel merito di quello che stai facendo attualmente e ovviamente sfondi una porta aperta perché io sono il primo in Italia ad aver portato seriamente PES su YouTube Italia. Non so se lo sai, ma io quando ho aperto il canale YouTube ho detto, io sono sempre stato un grandissimo amante di PES e ho sempre detto, manca qualcuno che seriamente porta questo gioco al livello che merita. Quindi sono partito sparato e sono riuscito ad avere successo. Questa cosa mi fa ovviamente molto piacere e vorrei che tu mi raccontassi la tua esperienza come conduttrice della Iseria Team i Football PES 2021. È stata una cosa particolare perché nel senso è una fusione veramente ottima di tutto quello che può essere il videogioco che fino a ieri o oggi tuttora viene considerato una roba da cameretta portata in uno studio televisivo fatto alla grande. Cioè addirittura ieri sono andata su Sky a riguardarmi perché viene una parte, l'ultima parte viene mandata su Sky e ho detto, raga, ma Sky sta mandando dei videogiochi di calcio in TV. Questa è una cosa veramente incredibile ed è stato per me, dico, un onore perché vedi, conduco spesso cose, però qualcosa legato al videogioco fatto veramente così in grande, così bene, non mi era ancora successo. Infatti, ti dico, il primo giorno gambe che tremavano proprio di brutto. Perché comunque hai una grande responsabilità sulle spalle. Quindi direi che è un ottimo inizio. Sicuramente ci saranno cose da migliorare perché tutti si stanno tarando, no? I caster che sono fantastici. Io non ho mai avuto prima d'ora in vita mia a che fare con dei caster da vicino. Cioè, questi ragazzi parlano per otto ore di fila perché tu devi ingaggiare il pubblico, no? Una partita, per quanto può essere entusiasmante, se un caster sa fare bene il suo lavoro, spacca tutto. Cioè, l'entusiasmo può crescere ancora di più. E loro parlano per otto ore di fila perché queste dirette durano tantissimo. E io, ragazzi, proprio pat pat, siete fantastici. È tutto un insieme. Tante cose veramente interessanti. Quindi auguro solo il meglio a questo format e al fatto che la Serie A abbia deciso di avere il suo torneo esclusivo. Cioè, nel senso, il suo torneo ufficiale e dici, è tanta roba. Qualcosa sta cambiando. Assolutamente. Guarda, mi rispecchio perfettamente in tutto quello che hai detto. E adesso voglio entrare, diciamo, più nei tecnicismi di questa Serie A. E ti chiedo, finora, quale squadra ti ha più impressionato tra quelli che partecipano? Allora, è una cosa molto particolare perché non hai solo i pro player che sono stati scelti dalla squadra della Serie A, ma hai anche i famosi draftati. I draftati non sempre sono, per esempio, tifosi di quella squadra per la quale sono stati scelti, ma magari ci sono, cioè, giocano per altre squadre, tipo c'è Raf Inter, che è fortissimo, che gioca per il Crotone, se non sbaglio. E sono tutti questi mix veramente pazzeschi. E anche lì si stanno rivelando, cioè, nel senso, delle squadre molto forti, sulla carta, poi alla fine sono un po' così così. oppure altre cose che abbiamo visto sono stati dei ribaltoni, dei draftati che non dovevano giocare, ma poi si sono un po' ripresi, tipo, oddio, come si chiamano? Non me lo ricordo. Vabbè, quello della Juve, il draftato della Juve, non me lo ricordo, scusate. Un paio di partite, ha giocato anche da solo, Porello, perché doveva giocare insieme al suo pro player a Ettorito, che non c'era, perché non stava bene, quindi si è ritrovato a giocare da solo. E veramente, le prime partite ha arrancato, poi ha tirato fuori una grinta pazzesca. E vedi questi ragazzi che, insomma, è un qualcosa di diverso anche per loro. E anche noi abbiamo cercato di fare dei pronostici lì nel nostro salottino, ma non si rivelano mai quello che davvero è, perché, ripeto, ci sono tanti fattori che cambiano, i draftati sono comunque magari meno, hanno meno esperienza dei pro player, però anche loro tirano fuori le unghie. Anzi, uno, per esempio, dei più forti che ho visto è stato, oh, madonna, hanno tutti questi nomi, in modo che non c'è, aspetta, Danielito Perù 10. Lui è stato veramente, veramente forte. Quindi, diciamo che di ragazzi forti ce ne sono, però è ancora tutto aperto. Insomma, abbiamo appena fatto il girone A, il girone B, quindi ce n'è ancora di panini da mangiare, di calci da tirare. Assolutamente. Vorrei un tuo pronostico. Secondo te chi vincerà alla fine questa israeliana? No, non lo faccio, non lo faccio, perché poi gufo qualcuno, poi me menano. No, 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 no. Io questo gioco non lo gioco. Vai benissimo anche perché, comunque c'è sempre l'imprevedibilità, no? Il fatto che il livello sia elevato e di conseguenza tutto si può ribaltare in qualsiasi momento. In continuazione. Sì, 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 sì. Ma infatti è proprio divertente quello. Cioè, nel senso, ti siedi con gli analyst, perché io seguo la partita insieme agli analyst, che magari mi danno qualche dritta su qualcosa di particolare, perché sì, sono appassionata di calcio, ma non ho una conoscenza di PES così approfondita a 360 gradi come possono averla loro, che sono proprio gli esperti. E allora mi faccio aiutare da loro, mi raccontano un po' delle cose e caspita, vedi proprio delle azioni, delle cose incredibili. Anche loro spesso dicono, beh, questo non ce l'aspettavamo, no, che succedesse. Dei ribaltoni che dici, fantastico. Ed è tutto così. È bello proprio perché è imprevedibile. Che spettacolo. Detto questo, visto che non hai voluto fare, giustamente però secondo me, un pronostico, io vorrei spostarmi su alcune passioni che in realtà abbiamo in comune. Ed è proprio per questo che ho deciso di farti queste domande. Partirei da quella di base e poi le altre arriveranno di conseguenza. da dove nasce la tua passione per i motori? Ecco, questa è una cosa che non mi sono mai riuscita a spiegare perché mia mamma e mio papà insegnano danza classica, non hanno una passione per i motori, cioè mio papà ha anche un po' paura della velocità. Io invece ho sempre subito il fascino delle vetture, non dal punto di vista tecnico, ma dalle emozioni che ti possono trasmettere anche già solo guardandole, dalle forme, da quanto vanno veloci. Cioè, è una cosa che mi dà sempre, anche quando ero alle superiori. Piano piano mi è sempre rimasta questa idea delle macchine in test, affinché poi, boh, non so come è nato il tutto, ma ho aperto il canale delle macchine, dove in realtà non parlavo di macchine, c'ero io che andavo in giro e raccontavo delle cose in macchina. Da lì poi, dei brand hanno iniziato a chiamarmi, hanno iniziato a darmi vetture in prova e da un canale di chiacchiere si è trasformato in un canale di test drive, perché oggi sul canale ci sono quasi esclusivamente test drive o esperienze particolari. Per esempio, adesso andrò a seguire la Formula E a Roma. Spettacolo. Bello, sì, no, no, è stata una cosa imprevedibile anche questa, però siamo sempre pronti alle nuove avventure. E allora, adesso posso farti anche questa domanda, perché ovviamente so che segui anche la Formula 1 e volevo sapere se ti piace anche la MotoGP. Allora, non sono mai riuscita, allora, con calma, perché già io sono appassionata piano piano alla Formula 1 in tempi recentissimi, tipo due anni fa. Tutti cercavano di dirmi, no, ma guarda che la Formula 1 è fighissima, devi seguirla. E dicevo, ma raga, ma se le macchine fanno solo mem, mem, così. Poi ho visto Formula 1 Drive to Survive, la serie su Netflix. Mi si è aperto, ti giuro, un mondo che ho detto, no, cos'è sta roba? Ma è fighissimo. Da lì poi ho avuto in brevissimo tempo la possibilità di andare a Okinaim, ho seguito il Gran Premio, quello di due anni fa, che è stato spettacolare. E lì poi ho fatto un giro nel paddock, ho visitato il box Ferrari, insomma, ho avuto questa opportunità di vedere un po' più da vicino come funzionasse tutto il Circus. E da lì basta, è stato tutto in discesa, mi sono completamente appassionata, perché non è solo la gara di per sé, la Formula 1, è proprio tutto l'insieme. A me poi piace anche proprio sapere le storie delle aziende, come funzionano, gli equilibri, sono molto interessanti, perché la Formula 1 è fatta anche di questo, Anche del management, delle strategie. Dello sviluppo della vettura durante l'anno, cioè, sembra una cosa molto semplice, ma è molto più complessa di quello che immaginiamo, no? Sì, 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 assolutamente. Perché per quanto il pilota possa fare la differenza, è anche la vettura che guidi. Cioè, io sono sempre stato del parere, e non so se sei d'accordo con me, che i piloti che sono in Formula 1, anche quello che arriva ultimo, se sta lì, è perché è uno dei migliori al mondo. E, mi chiederebbe vederlo con una vettura più competitiva, quello che potrebbe fare. Te lo assicuro, sono delle cose pazzesche. Poi anche lì, cioè, ti dico, ho avuto la possibilità di andare a Enston a vedere la fabbrica dove viene sviluppata la Renault, che ormai si chiama adesso Alpin, però anche lì loro raccontavano che per esempio non hanno gli stessi budget di Mercedes o Ferrari e cavolata, loro non hanno la galleria del vento, o perlomeno hanno una galleria del vento molto piccola e devono fare delle prove con la macchina in scala e non hanno il circuito. Quindi, cioè, rispetto ad altri team che magari sono un po' più ricchi, hanno delle possibilità in meno. Quindi lì vedi proprio anche la differenza di ingegnarsi nello sviluppare una macchina che sia all'altezza anche di dei team più ricchi. Però è molto interessante proprio quello che c'è dietro anche la Formula 1, non proprio la gara di per sé che è il culmine di quello che noi vediamo. Ma il fatto di tornare in mente, non so se ti sei informata perché all'epoca non le seguivi, le mitiche Brown GP. Ecco, no, quelle non le conosco. Guarda, ti consiglio di recuperare quell'epoca, mi pare 2007-2008, e la storia dei diffusori, no? Come le Brown GP, ovviamente scuderia di Ross Brown, che è stato per tanti anni team principal della Ferrari, come sono riusciti con dei diffusori a creare praticamente una vettura dal nulla che fosse superiore a tutti nettamente. Ma infatti è proprio quello secondo me la cosa che è bella, cioè sapere, anche se uno non è tecnico, però andare proprio a scoprire delle curiosità sui piloti, sulle macchine, sulle scuderie, è veramente, veramente interessante. Quindi se non vi siete ancora appassionati, provate a mettere il nasino dentro perché potrebbe essere qualcosa che vi può piacere. Assolutamente. E la MotoGP? La segui? Ma sai che la MotoGP? Ecco, stavo dicendo una cosa per volta, ho iniziato adesso con la Formula 1, sono andata un paio di volte a vedere dei MotoGP, sempre ospite di alcuni marchi, però non mi ha ancora catturata, spero di metterci anche lì un po' il naso un po' più avanti, perché tutti mi dicono guarda che è molto più appassionante della Formula 1, assolutamente. Più spettacolare. Più spettacolare, ci proveremo, non lo so, vedremo, mai dire mai, io sono sempre aperta a tutto, anzi, più le cose non le conosco più mi incuriosiscono. Ed è questo il bello. E adesso ti voglio tirare fuori una domandina sempre sulla Formula 1, sono un paio d'anni che la segui, quindi ti sarai appassionata, per chi fai il tifo? Cioè c'è qualcuno che ti ha impressionato, motivo per cui dici, poi ti spiego magari rapidamente la mia storia e magari dici, sì, faccio il tifo per quella scuderia o per quel pilota? Allora, sai che, io adoro un pilota solo, ma perché è il suo modo di essere che mi ha particolarmente stregata, che è Ricciardo, e non l'ho mai nascosta questa cosa, perché è molto cazzaro rispetto agli altri piloti che sono molto seri, così lo trovo molto affine alla mia personalità, quindi mi piace il modo che ha di affrontare un po' tutto con molta leggerezza, senza mai prendersi troppo sul serio. Detto questo, non tifo nessuno, perché mi piace proprio vedere come si svolge la gara e gioisco sempre per il primo che arriva, perché immagino che cosa voglia dire stare lì dentro per un'ora a 200 all'ora e secondo me chi arriva primo gioisco sempre per quello, cioè nel senso mi dispiace che la Ferrari recentemente non se la stia cavando molto bene, però veramente mi sta appassionando talmente tanto che non riesco a tifare per uno nello specifico, posso simpatizzare ma non ho non ho preferenze, ecco. io invece mi sono innamorato piccola parentesi sportivamente, ovviamente sono un grande tifoso della Ferrari da italiano, però mi sono innamorato sportivamente di Fernando Alonso, l'epoca della Renault, della sua prima epoca alla Renault, ma ancora prima quando militava nella Minardi, io lì mi sono innamorato di lui, perché avevo intuito che non era un pilota comune, che portava vetture anche nettamente inferiori, molto più al limite rispetto che piloti della sua altezza a parità di vettura e non mi sono sbagliato perché poi anche Briatore ci ha visto lungo, l'ha portato in Renault e ha vinto quei due mitici titoli mondiali, ti consiglio di andare a recuperare le, 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 chiamiamo le skills di Fernando Alonso con la, con la Renault perché faceva dei sorpassi, veramente un qualcosa che in pochi hanno fatto vedere nella storia della Formula 1. Adesso che parli di Alonso mi ricordo che c'è un, un documentario su Netflix, no su Netflix, scusami, su Prime Video che si chiama proprio Alonso o si chiama proprio Fernando quindi andrò a recuperarlo adesso bravo, grazie per l'int andrò a vederlo. È un, veramente ti si apre ancora di più un mondo e io ancora, ancora più indietro mi ricordo le mitiche sfide tra Mika Hachinen e Michael Schumacher tra McLaren e Ferrari veramente erano tempi diversi, anche i regolamenti erano diversi, c'era tante cose però è sempre bello studiarle queste cose per, perché è bello, a me piace conoscere tutto quindi sono fan della cultura quindi per me tutto vale. Assolutamente d'accordo con te, guarda, ho terminato le domande a disposizione ma potremmo stare qui anche altre due ore a parlare perché abbiamo veramente 250 passioni in comune, cioè io penso che qualsiasi un altro video le tecnologie ovviamente anche tu sarai super iper appassionata di tecnologie e lo so e io sono peggio di te o comunque almeno io sono il tipo che deve cambiare il cellulare perché appena esce il nuovo modello la fotocamera con un megapixel in più la devo avere assolutamente quindi sono tante le passioni che abbiamo in comune io ti ringrazio per aver accettato l'invito sono veramente onorato grazie a te grazie a te assolutamente ti faccio un grosso in bocca al lupo per questa stagione ovviamente della i serie i serie a team i football pass 2021 e ovviamente io me la godrò dal divano e ti auguro ovviamente il meglio anche per il futuro per il tuo futuro professionale sono sicuro guardando la professionalità che metti in mostra che farai tante altre cose belle nella vita ti ringrazio ti ringrazio tantissimo detto questo ragazzi lasciate mi piace per supportare questi contenuti iscrivetevi attivate la campanella grazie ancora a Fiona Ciacalli che ha ovviamente scelto di essere qui con noi e ci vediamo alla prossima con un nuovo video ciao ragazzi ciao Fiona ciao ciao ciao